I contratti di lavoro sono in scadenza il 31 dicembre e in questo momento non abbiamo neanche la capacità di programmare servizi socioassistenziali e sociosanitari a lungo periodo perché non abbiamo certezze su quello che sarà il futuro di questa realtà. Si torna a parlare di lavoro, siamo sotto Palazzo Carafa, questa volta manifestate sono le operatrici di ambito che chiedono di essere ricevuti dal sindaco Carlo Salvemini per essere stabilizzate ma le risposte non sono quelle che loro si attendono. Abbiamo fatto una serie di manifestazioni con assemblee sotto Palazzo Carafa e l'altro giorno non siamo stati ricevuti dal sindaco con uno strappo dal nostro punto di vista anche importante ma noi non siamo stati ricevuti, ha voluto soltanto ascoltare le lavoratrici e ieri abbiamo avuto un incontro con il prefetto al quale abbiamo appunto messo in evidenza questo particolare disagio che stiamo vivendo in questo percorso che già da più di un anno si sta portando avanti con dei risultati al momento ancora minimi. Voi chiedete la stabilizzazione, in realtà il sindaco non vi dà risposte, non vi ha neanche ricevuto. Se dovesse permanere questa posizione cosa farete? Se dovesse permanere questa posizione noi al sindaco intanto chiediamo contezza degli ultimi passaggi che per il momento stanno bloccando le procedure di stabilizzazione se dovesse permanere questo silenzio noi dovremmo proclamare lo sciopero. È necessario questo passaggio perché dobbiamo dare risposte alle lavoratrici rispetto alle procedure che dovrebbero chiudersi entro il 31-12 del 21 necessariamente perché altrimenti significherebbe dover rifare nella prossima annualità tutta la programmazione per le stabilizzazioni. Grazie. Grazie. Grazie.